Per la prima volta l'Associazione Industriali rompe gli indugi ed esplicita all'interno di un manifesto per le elezioni amministrative, suggerimenti e richieste ai candidati sindaci. Noi ci siamo sempre limitati ad osservare dall'esterno, ricordiamo che la nostra associazione è apartitica, quindi noi di fatto non abbiamo nessun colore politico, ma non siamo politici per quanto riguarda la politica economica. Ecco questo è un momento importante per il nostro territorio, è un momento in cui si può veramente riflettere su quella che è la visione del futuro e abbiamo pensato di dare un contributo attraverso questo documento che esprime un po' quelle che sono le nostre idee, le nostre progettualità per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Nel documento si parla di crescita e di valorizzazione della città che deve essere più attraente e inclusiva. Cremona deve assolutamente andare in un percorso identitario nel quale deve essere chiara la sua posizione nel mondo e la sua unicità, perché solo attraverso un'identità puoi pensare a una crescita, non puoi pensare di crescere confrontandoti con quelle che sono le identità degli altri. Tanti temi, dalla fiera al cluster agri-food, migliorare i collegamenti, cambiare lo storytelling e la comunicazione strategica, i giovani, la musica, le start-up, perché Cremona ha tanto da offrire. L'invito ai candidati è a coinvolgere le forze economiche. Noi ci siamo unite, tutte le forze economiche, in un'associazione che si chiama Assieme e forniamo gratuitamente quello che è nostro parere per le cose di cui siamo competenti. È importante che gli amministratori e la squadra di chi andrà ad amministrare sappia che ha un ruolo molto importante, un ruolo di coordinamento e deve poter trovare nel territorio chi può dare delle informazioni utili o dei contributi e deve ascoltare assolutamente chi è in grado di fornire dei suggerimenti utili per la crescita.